Beh, potevamo stupirvi facendo la sede in piazza San Francesco o nel salotto buono di Arezzo, invece abbiamo scelto letteralmente il quartiere più critico, o comunque sia più problematico di Arezzo, in uno degli epicentri più critici di questo quartiere. Proprio è una scelta voluta e penso che sia una cosa anche interessante. Arezzo nel cuore ha la sua sede e si trova nella famigerata Via Piave, a due passi da Campo di Marte, teatro spesso e volentieri, di risse e fatti di cronaca legati allo spaccio. La lista che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Ghinelli nasce prima ancora come associazione e gruppo Facebook Arezzo nel cuore contro i cialtroni. Angelo Rossi correrà nella lista regionale, Medi Cornacchini assieme ad altri 15 invece in quella comunale. Nell'accordo quadro che abbiamo composto con Forza Italia vado a concorrere per la regione, mentre per il comune ci sarà la nostra Meri Cornacchini con altri 15 nostri agguerritissimi associati che contribuiranno alla lotta per il comune. La lista è già pronta? Sì, la lista è già pronta da giorni perché ci stiamo lavorando da tempo, è un anno che stiamo lavorando con l'associazione Arezzo nel cuore e a questo punto abbiamo già tutta la lista stilata, siamo già a buon punto. Una lista civica che quindi è completamente slegata dai partiti? Sì, perché la novità politica di queste elezioni, la grande novità politica, è che Forza Italia ha deciso di fare una svolta civica, aprendosi al civismo e quindi lasciando piena indipendenza all'interno di un listone unico, diciamo così, costituendo quindi un polo civico. C'è praticamente una lista che farà parte di un polo civico perché l'esigenza delle persone in questi ultimi tempi è quello di avere persone che sono del territorio e che possono dare un contributo civico perché c'è stato un periodo in cui le persone erano disamorati della politica, erano disamorati dei partiti, la richiesta era di fare un polo civico, c'è stato questo lancio, pertanto la vediamo come una cosa positiva perché è il modo di riportare le persone a contatto con la politica e con le elezioni, riavvicinarsi a quella che è la politica perché se tutti si allontanano non possiamo avere un qualcosa di positivo nella città perché diventa una cosa veramente anarchica.